bentornati sul canale tutto e ragazzi nel video di oggi vi presento un prodotto che se per caso avete una zona di casa o un campo piuttosto che parliamo di una zona dove non c'è segnale wifi quindi il problema è voglio video sorvegliare quella zona però purtroppo non arriva il mio wifi di casa cosa posso fare rimango così metto un ripetitore però a volte non basta neanche quello e quindi mi ha contattato la società ctronix e mi ha inviato questa telecamera di video sorveglianza adesso andiamo a fare subito l'unboxing non perdiamo tempo poi l'installazione e vediamo un po come funziona cosa troviamo nella confezione la spiegazione sia in cinese giapponese coreano ma c'è anche la lingua italiana qui scritto in piccolo ma c'è la lingua italiana delle caratteristiche della telecamera che poi andremo a vedere ad approfondire manuale di istruzioni l'antenna da montare dietro la telecamera poi vedremo come fare cavetto di alimentazione le pinzette un certificato di qualità la basetta per poterlo appendere al muro e i suoi fisher con le viti e il cavetto di alimentazione perché vi ricordo che questa telecamera ha una batteria tampone al suo interno e quindi può essere ricaricata tramite usb usb c in più la telecamera viene dotata di una sim potete abilitare questa sim utilizzarla per prova dopodiché potete decidere se abbonarvi a questo tipo di sim oppure scegliere un altro gestore allora andiamo a vedere un po di caratteristiche nella parte posteriore troviamo usb c per poter attaccare il cavo di alimentazione togliamo il tappino e qui ci va montata la sua antenna perché la monteremo il tasto di accensione spegnimento e la sede per poter montare la basetta sollevando invece la telecamera qui sotto troviamo il tasto reset la sim che già inserita e la possibilità di inserire una micro sd come dicevo telecamera dotata di batteria integrata da 7800 mAh utilizza una connessione 4g visione notturna a colori migliorata rispetto ai precedenti modelli come vi dicevo prima è dotata già di una sim che viene data in dotazione all'interno ci sono 300 megabyte per poter provare e testare la telecamera risoluzione 2k per quanto riguarda l'archiviazione o inserita all'interno una micro sd oppure come tutte le altre telecamere utilizzate il cloud proprietario di citronix snocciolata qualche informazione della telecamera poi comunque bene o male sono tutte abbastanza similari io direi di procedere con l'installazione prima cosa da fare non ve la faccio neanche vedere tanto è sempre una solita cosa scaricate l'applicazione citronix pro sia su app store che google play avete la possibilità di scaricare questa applicazione una volta fatto sicuramente vi chiederà di andare a creare un vostro account fate tutti i vari passaggi date tutte le varie autorizzazioni del caso dopodiché ci vediamo per l'installazione adesso partiamo con l'installazione vera e propria della telecamera per prima cosa montiamo nella parte posteriore l'antenna che ci viene data in dotazione questo sicuramente sarà utile per avere un segnale migliore fatto questo andate nel manuale di istruzioni c'è un qr code da scansionare vi faranno vedere un video questo video servirà per fare l'installazione ma siccome ve la faccio vedere io evitate di andare a scansionare quel qr code ho scaricato l'applicazione mi sono registrato adesso mi viene indicato di inserire la sim all'interno della telecamera nella parte sottostante qui basta alzare la parte dell'obiettivo adesso accendiamo la telecamera come vedete c'è una luce rossa che lampeggia entriamo nell'applicazione siamo entrati nell'applicazione facciamo aggiungi telecamera è una telecamera 4g la nostra diamo l'ok per accedere alla fotocamera e questo servirà per poter scansionare il qr code che in questo caso si trova nella parte sottostante vado a scansionare il qr code scansionato il qr code mi viene detto di inserire la scheda installare l'antenna accendere la fotocamera dopo circa un minuto iniziare a lampeggiare di blu questo lo fa già ogni due seconde fare clic sul prossimo passo intanto vi dico che l'indicatore lampeggia di blu prossimo passo diamo il consenti per adesso andiamo avanti diciamo va bene così naturalmente ci dice che per motivi di sicurezza converrebbe modificare la password va bene poi lo faremo ci richiede per sicurezza la password password modificata e in fase di connessione e mi dà un punto verde quindi teoricamente dovrebbe essere a posto vediamo ci siamo la telecamera è connessa mi indica che c'è metà batteria qui posso spostare la visione della telecamera in vari punti della stanza appunto facendo uno scroll sul sullo schermo e funziona quindi la telecamera come avete visto ci abbiamo messo veramente pochissimo tempo a attivarla quindi vedete mi vengono fuori i pop up che mi indicano che ha rilevato del movimento qui ci dà delle indicazioni se vogliamo lo standard definition o la light definition mettiamo in alta definizione c'è un po di latenza è un po scattosa però vi ripeto è una telecamera di video sorveglianza che utilizza il 4g quindi non avete problemi di alimentazione perché ha una batteria integrata non avete problemi di connessione col wifi perché ha una sim integrata e quindi siete tranquilli e liberi di poter installare ovunque vogliate la vostra telecamera qui sono i soliti tasti per scattare la foto questo qui sulla sulla destra video poter dare la possibilità di parlare di parlare inizionale togliamolo perché sennò qua andiamo avanti all'infinito qui consentiamo anche di accedere al microfono piuttosto che tenendo premuto a lungo c'è la possibilità di poter parlare con la persona che magari vediamo dall'altra parte perché non per forza ci deve essere un malintenzionato magari la mettiamo nella cameretta piuttosto che la mettiamo in una stalla perché vogliamo video sorvegliare quello che succede in quella stalla e magari l'animale in questione potrebbe anche calmarsi sentendo la nostra voce e qui ci sono tutte le solite impostazioni che vengono messe da qualsiasi ormai videocamera di video sorveglianza la telecamera attualmente si trova su amazon a 59 euro e c'è anche la possibilità di fregare un coupon del 5 per cento quindi un 5 per cento in più per avere un ulteriore sconto molto semplice l'installazione soprattutto molto rapida io la consiglio come dicevo prima per quelle persone che hanno una parte esterna alla casa quindi lontano dal wifi e vogliono video sorvegliare un'area un po particolare mi viene in mente anche chi magari ha un'autorimessa piuttosto che un pergolato con sotto la macchina lontano da casa e quindi vuole tenere sott'occhio la telecamera questa come tutte le altre ha le caratteristiche di rilevamento della persona rilevamento di movimento potete dare voi la zona da controllare tutte caratteristiche che fanno sì che questo tipo di telecamera possa essere utile per molti utilizzi che non sono quelli canonici di casa bene ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato utile che la telecamera vi abbia convinto perché sinceramente non me l'aspettavo complimenti alla citronix vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter effettuare l'acquisto io direi che per questo è tutto ci vediamo il prossimo video ciao